Zaia e Tosi si stringono la mano dopo la rissa nella Lega, ma Zaia si sfoga i microfoni dei cronisti e contesta l'epurazione di 35 militanti. Il comandante interregionale della Guardia di Finanza annuncia indagini mirate agli evasori sconosciuti al fisco. Torna nei nostri studi il giornalista Carlo Mion per le pagelle da dare ai personaggi della settimana. Ben ritrovati dalla redazione del Tg di Televenezia. Stretta di mano fra Zaia e Tosi oggi a Venezia dopo la rissa nella Lega e lo scontro sulle 35 espulsioni decise dal segretario nazionale della Liga Veneto, ma subito dopo il governatore si è sfogato ai microfoni dei cronisti. È guerra aperta senza esclusione di colpi in casa Lega e non rivela il vero grado di tensione che esiste nel partito del carroccio. La stretta di mano messa in scena oggi per le telecamere tra Zaia e Tosi dopo le 35 espulsioni decise dal segretario nazionale della Liga Veneta e contestate dal governatore del Veneto. Zaia stamane a margine della cerimonia di avvicendamento del comandante interregionale della Guardia di Finanza a Palazzo Cacornermo Cenigo ha sfogato tutta la sua rabbia e difeso i 35 espulsi. I 35 espulsi non sono assolutamente un coacervo di carregali perché la stragrande maggioranza non ha mai visto una poltrona in vita sua. Luca Zaia cerca di raccogliere i cocci di un partito che si sta distruggendo dopo l'esclusione di Santino Bozza e Giovanni Furlanetto e l'azio di Sandro Sandri e la rissa in cui è rimasto coinvolto ieri durante il Consiglio nazionale della Liga Veneta 90 il veneziano Pizzolato che ha preso una sberla e ha subito un distacco della retina. Teorizzare un partito egemone ci sta ma il partito egemone vuol dire che deve raggiungere il 51%. È impensabile pensare un partito con il 51% dell'elettorato che non abbia un dissenso interno da gestire perché la democrazia porta alla gestione delle diverse idee. Luca Zaia ha dichiarato di continuare a volere l'unità del partito e ha preso le distanze da Bossi. Per quanto riguarda Bossi è bene chiarire una cosa che io non so cosa faccia Bossi, cosa voglia fare, non sono informato di questo ma per quel che mi riguarda qualunque cosa faccia io sicuramente non sarei a seguirlo, peggio ancora ad assecondare magari eventuali rotture della Lega. Inoltre il governatore del Veneto ha escluso che i Bossiani costituiscano l'anima della Liga Veneta. Sono una minoranza, ha detto. In Veneto esistono i Bossiani da un lato, si contano sulle dita di una mano e dall'altro esistono invece due grandi correnti di pensiero che debbano trovare la loro sintesi e che nulla hanno a che vedere con cerchio magico, diamanti o robe del genere. Cambio al vertice della Guardia di Finanza del Comando dell'Italia Nord Orientale. Il generale Flavio Zanini ha annunciato che le indagini contro l'evasione fiscale si focalizzeranno nelle zone oscure. Sentiamo. La Guardia di Finanza ha tanti anni di storia, ha una tradizione storica nel contrasto all'evasione fiscale e come diceva, ripeto ancora con piacere, perché io, collega di corso, il Comandante Generale, ultimamente è anche nel contrasto a quelle che sono le legalità nel settore della spesa pubblica. Chi ha nel DNA questo modo di lavorare punta sempre più a perfezionare i meccanismi per contrastare quelle aree di evasione che sono pericolose. Non colpire i soliti ignoti, ma cercare di individuare, di eliminare quelle zone grigie o nere di evasione. Arrestata per simulazione di reato. Una donna di origini croata, di 23 anni, voleva coprire la perdita di una somma di denaro a causa del vizio del gioco. La ragazza ha chiamato i carabinieri del nucleo operativo e il radiomobile di Mestre, raccontando una rapina piuttosto cruenta, con l'aggressione da parte di due soggetti e la minaccia con un coltello. La donna ha esibito anche alcuni tagli superficiali agli avambracci. I rilievi tecnico-scientifici però hanno rivelato molte contraddizioni che hanno costretto la cittadina croata a confessare. Ed ora il bilancio della giornata ecologica a Mestre e a Venezia. Non sono mancate le polemiche, dato che lo stop non ha riguardato le grandi navi. Sentiamo. Domenica ecologica tra stop dei motori e accese polemiche in laguna. Si è svolta così la giornata di ieri a Venezia, dove al Green Day promosso dal Comune, che ha previsto lo stop della circolazione delle barche private in Canal Grande e Rio di Canareggio, dalle 10 alle 15, si è giunta la polemica dei comitati no grandi navi. Mentre la polizia appioppava 14 multe per violazione del blocco della navigazione a motoscafi e barchetti a motore, sfilavano davanti a San Marco la Seven Seas Mariner, con i suoi 3000 ospiti, e l'immensa MSC Fantasia, la più grande e pesante nave mai approdata a Venezia. Ad aspettarle, la goletta verde di Lega Ambiente, con una delegazione del comitato no grandi navi, che ha accolto le massodontiche ospiti non gradite con striscioni e fischietti. Il blitz rumoroso ma pacifico è stato fermato dalla polizia intorno alle 18, mentre sventolavano ancora immensi striscioni di protesta sul campanile di San Giorgio e sulla gru del Palazzo Patriarcale della Salute. Il comitato ha scelto di manifestare ieri proprio perché nella domenica ecologica è stato concesso il passaggio alle grandi navi in Laguna e alla protesta si sono aggiunti anche i comitati Ambiente Venezia e Venezia Benecomune, che esibivano manifesti in bacino San Marco, mentre la fantasia oscurava il campanile di San Giorgio con i suoi 67 metri di altezza. Paura fra il personale della CTV contro l'azienda che ha annunciato una ristrutturazione e in programma un altro sciopero. A CTV sempre più in rosso e la riorganizzazione annunciata dai vertici dell'azienda fa paura. Nuova mobilitazione dei dipendenti A CTV oggi in piazzale Roma, contro i tagli al trasporto pubblico previsti dalla Regione e dopo l'annuncio della riorganizzazione aziendale da parte dell'assessore alla mobilità Ugo Bergamo e dal presidente della società Marcello Panettoni. I dipendenti della ditta di trasporto hanno dato il via alla protesta stamattina in piazzale Roma, dove dopo la distribuzione di volantini hanno fatto firmare ai passanti cartoline contro i tagli previsti dalla Regione. Le firme raccolte verranno poi consegnate in Regione al termine della manifestazione regionale prevista per il 23 aprile, che partirà alle 9.30 dalla stazione ferroviaria Santa Lucia e che si concluderà proprio sotto il Palazzo Regionale. Ma cosa teme il personale A CTV? I vertici dell'azienda, entro la fine dell'anno, hanno annunciato la riduzione delle spese del personale di circa 5,7 milioni di euro, pari al 4%, andando a bloccare il turnover dei dipendenti e tagliando del 50% i premi di produttività per i dirigenti. La rabbia degli autisti nasce anche dalle informazioni diffuse dalla Regione la scorsa settimana, secondo cui i dipendenti A CTV sono tra i più pagati in Veneto e per questo negli ultimi giorni hanno appeso nella cabina i loro contratti, sperando anche che fra i tagli previsti non ci rimette il loro stipendio. In tal caso, il personale A CTV è già pronto a nuove forme di proteste e a nuovi scioperi per difendere fino all'ultimo i posti di lavoro a rischio. La crisi dei nostri giorni morde di più di quella del 1929, con una sola eccezione, le famiglie spendono un po' di più. È emerso da una ricerca della CGA di Mestre. Peggio che durante la grande crisi del 29. Lo dice la CGA di Mestre, infatti, stando ai dati raccolti dall'Associazione di Categoria, gli effetti della crisi sono molto più pesanti rispetto a quelli registrati alla fine degli anni 30. Gli investimenti sono crollati al punto che sono calati quasi del doppio rispetto al 1929. Nel 2012 il tessuto economico ha dovuto rinunciare a bene circa il 19% di risorse, mentre tra il 1929 e il 1934 gli investimenti sono scesi soltanto del 13% circa. Altro dato preoccupante è quello del Pil Pro Capite. Se nel 29 la ricchezza di ogni singolo cittadino era diminuita dell'8,6%, in questi ultimi anni la percentuale di perdita di potere d'acquisto è aumentato ed è pari al 9,4%. Le famiglie però non hanno ridotto i consumi. Se nell'anno orribile il crollo aveva registrato una perdita di quasi il 10%, negli ultimi anni la diminuzione è stata solo del 5%. Oggi, secondo la CGA, siamo più poveri rispetto agli anni 30, a causa della forte disoccupazione e delle nuove ed esorbitanti tasse che i cittadini si trovano a dover pagare. Giuseppe Bertolussi, segretario CGA, sostiene invece che bisogna ridurre le tasse, rilanciare i consumi delle famiglie e invertire la politica economico-fiscale di questi ultimi anni, in modo da favorire anche le piccole imprese che ad oggi non si trovano in una situazione facile. Il risparmio energetico può abbattere drasticamente i costi di una casa. Lo hanno scoperto all'estero i tecnici della provincia di Venezia che ora stanno preparando un progetto da realizzare nel veneziano. Sindaci e assessori del veneziano a Innsbruck per visitare il quartiere statale residenziale di Lodena Real e l'Olympic Village, costruito l'anno scorso per le Olimpiadi Invernali. Qui una famiglia può trovare un appartamento a 400 euro al mese, tra affitto e bollette, un sogno per molti veneti. Le abitazioni sfruttano infatti innovazioni ingegneristiche e fonti di energia rinnovabili che permettono di abbattere i costi di luce e riscaldamento, oltre che materiali economici ma resistenti che garantiscono una buona vivibilità della casa. Tra pannelli solari per produrre energia, muri isolanti e tripli vetri per mantenere stabile la temperatura e sistemi di riciclo dell'aria per l'ariazione nei mesi estivi, i quartieri di Innsbruck rappresentano un'eccellenza europea che si spera verranno presi a modello per i piani d'azione per l'energia sostenibile che i 22 comuni del Veneziano, che hanno visitato la città austriaca, devono presentare e approvare a breve. Abbiamo visto oggi l'interesse da parte delle amministrazioni pubbliche, c'è, però non deve essere soltanto un interesse degli amministratori, ma deve essere l'interesse dei tecnici, dei comuni, e deve essere l'interesse dei sindaci, deve essere l'interesse delle aziende. Mi auguro che questi temi vengano ripresi nel contenuto della città metropolitana, perché altrimenti tutto questo sforzo qua è inutile. I temi sono proprio questi, quello di poter vivere, come abbiamo visto oggi, su abitazioni che hanno tutte le strutture idonei, servizi idonei, dove due giovani sposi con un bambino piccolo entrano su degli alloggi popolari, pagando un affitto e con le spese di utenza, del riscaldamento, raffreddamento d'estate e le spese quindi delle bolette telefoniche sull'ordine dei 400 euro. È sempre importante vedere cosa fanno gli altri, si va sempre a vedere cosa fanno i migliori, quindi questa è un'esperienza bellissima, unica, direi, di urbanistica con una certa logica. Poi sicuramente ognuno di noi ha dato al suo contesto tutto questo, sto pensando al contesto della riviera, che forse non potrebbe ricevere una situazione del genere, però si prendono alcune cose, si adattano alla nostra realtà, questo è fondamentale. Gli assessori provinciali all'ambiente Paolo Dallavecchia e ai trasporti Giacomo Grandolfo, insieme a sindaci e tecnici dei comuni veneziani, si sono diretti nella città austriaca venerdì scorso per conoscere e visitare i due quartieri modello ad elevate prestazioni energetiche. La visita si inserisce nel progetto 2020-20, coordinato dalla provincia di Venezia, al quale hanno aderito 22 comuni del territorio. Un progetto ambizioso con lo scopo di migliorare l'utilizzo delle fonti energetiche negli ambienti urbani, nel campo dell'edilizia e dei trasporti. Lo scopo che si sono prefissati i comuni del veneziano è il raggiungimento del 20% di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 e l'aumento del 20% dell'uso di fonti rinnovabili, entro evidentemente il 2020. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Franco Oro più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Iesolo e Caorle. A Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Fra le altre cose parleremo di fantasiose sponsorizzazioni e del forte aumento di reati contro il patrimonio. Troppa microcriminalità a Chioggia, allarme della Confesercenti. L'associazione chiede in particolare l'installazione di sistemi di videosorveglianza antirapina per contrastare i sempre più frequenti furti notturni. Chiesta anche la convocazione urgente di un tavolo sulla sicurezza, con comune e forze dell'ordine. Si chiama adotta una rotatoria e a lanciarla è il comune di 90 di Piave. Visto che la manutenzione delle aree verdi all'interno delle rotonde costano un poco, il comune ricorre a sponsor privati. In cambio della cura del verde, potranno esporre cartelli col proprio marchio, insomma quello che si dice ritorno di immagine. L'oasi di Gaggio premiata dalla Lipu per il numero record di nidificazioni, in particolare quelle del marangone minore, una specie a rischio di estinzione. Delle 2000 coppie censite in Italia, ben 215 stanno facendo il nido nell'oasi di Gaggio. Nessun altro finora ha ottenuto un simile risultato, in aumento anche ai roni rossi e cinerini. Una gastronomia per cani e gatti sarà la prima in assoluto in Italia e si chiamerà Petit Chef. Aprirà a Treviso dopo l'estate. Gli amici a quattro zampe potranno godere di una bella cucina a vista che sfornerà alimenti freschi, bilanciati e sani. I cibi saranno venduti in monoporzioni, a 10 euro al chilo per l'umido, 12 per le crocchette. Scuola bus più caro del 40%, da settembre prossimo a Casale sul Sile l'abbonamento passerà da 150 a 210 euro. Una vera e propria stangata per gli alunni che frequentano l'istituto comprensivo. Dopo una decina d'anni con tariffe inalterate, ora la Giunta ha deciso di adeguare il costo del servizio. Il comune di Arcade istituisce un fondo di aiuto per pagare l'IMU. Si tratta di 12.000 euro che serviranno ad aiutare le famiglie che non ce la fanno a pagare l'imposta sulla casa. Il contributo massimo è di 200 euro a famiglia. Un ulteriore aiuto è previsto per madri e padri separati e ragazze madri. I controlli serali su autobus e tram stanno dando buoni frutti. A Padova la presenza di verificatori e vigilanti a bordo dei mezzi ha visto crescere del 4% la vendita dei biglietti. I controlli serali, ovvero dopo le 20.30, sono iniziati circa un mese fa e piano piano si stanno estendendo a tutte le linee urbane. Niente zaini, quaderni e lavagna. La scuola del futuro è 2.0, come l'istituto professionale di Est, gestito dai salesiani di Don Bosco. Il Manfredini è uno dei sei in Italia, con aule wifi, tablet al posto dei libri, dropbox invece dello zainetto, una Apple TV anziché l'ormai desueta lavagna e compiti a casa sull'iPad. Operazione trasparenza della polizia locale di Padova, fino a sabato 20 aprile i telelaser per rilevare gli eccessi di velocità saranno posizionati in via Davanzo, via Durer, via Grassi, via Friburgo, via Messico, via Bembo, via Armistizio e via Po. Le postazioni saranno segnalate e presidiate da agenti in divisa. Ed ora il bilancio della terza tournée in Giappone del Teatro La Fenice. A Nagoya e a Tokyo, concerti con brani di Verdi, Rossini e Puccini e l'esecuzione dell'Otello Verdiano. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, andato al seguito della compagnia e degli orchestrali, ne ha parlato oggi a poche ore dal suo ritorno. Molto importante perché il Giappone ci ha accolto con grande entusiasmo. La nostra Fenice ci è fatta valere con grande professionalità, ha dimostrato tutta la capacità di cui va fiera, sia dal punto di vista organizzativo ma anche e soprattutto dal punto di vista artistico. Il direttore Chung ha avuto degli applausi straordinari, ma devo dire tutta l'orchestra e tutti i cantanti. Questo amore che i giapponesi hanno per Venezia, la Fenice e l'Italia ci dovrebbe spingere ad essere orgogliosi del nostro paese, ma anche ad essere attivi nell'intessere rapporti con quel paese che ha una grande dinamicità e che è certamente pronto a sviluppare anche rapporti commerciali dei quali ci siamo pure occupati in questo periodo. Ed ora i voti alle notizie ai personaggi della settimana. Dare le pagelle, oggi è venuto a trovarci in studio Carlo Mion, cronista e non giornalista, come lui si definisce. Sentiamo. Eccoci in studio con la rubrica Le pagelle, è tornato a trovarci Carlo Mion della Nuova Venezia, cronista di nera ma insomma anche diciamo un tutologo, un po' come tutti i giornalisti. Senti Carlo, la pagella di oggi, da chi cominciamo a dare voti? Innanzitutto buongiorno e buonasera, a seconda di quando vedrete questa trasmissione e precisiamo una cosa, non sono un tutologo e non sono un giornalista ma un semplice cronista. Bellissima questa cosa, cronista, giornalista, dai, potremmo anche parlare delle differenze? Sì, parliamoci addosso tra giornalisti che è sempre molto simpatico o meglio antipatico. Comunque, allora, tornando ai fatti di cronaca, naturalmente non possiamo dimenticare e non possiamo far finta di niente di cosa è successo nel fine settimana in Casa Lega. Dico questo perché il Veneto comunque è caratterizzato da questo partito che rimane un partito locale ma che insomma negli ultimi periodi ha dato uno spettacolo poco edificante. Diciamo questo, io sono convinto che hanno bisogno e come partito, loro hanno bisogno e naturalmente come partito ha bisogno di una rifondazione, tra virgolette, perché? Perché gli scandali che messi in luce l'anno scorso hanno minato la credibilità di un partito che aveva fatto dell'essere differente dagli altri, il cavallo di battaglia, diciamo un DNA. Cioè dell'onestà diciamo. L'onestà, ma gli intrighi di Palazzo, di Roma e poi abbiamo scoperto di tutto di più, dai diamanti, dai soldi usati per fare il pieno di benzina, il figlio di Bossi, dall'università, chissà dove lauree acquistate, chissà dove. Diciamo hanno fatto tutto quello che in vent'anni avevamo visto fare agli altri per cui chiaramente diciamo che la strada iniziata adesso con Maroni, con Tosi e via dicendo è inevitabile. Ecco quindi tu dai un bel voto diciamo in questo momento a Tosi e Maroni che stanno... Ha il coraggio di fare pulizia, ha il coraggio di rifondare, uso questo termine che non se ne abbiano a male gli amici della Lega che non voglio riparlare di rifondazione. Quindi un voto lo puoi già dare? Un voto positivo a Tosi, alla strada, alla strada intraprese e di sicuro è un 8. Un 8, però addirittura... Però stiamo attenti a non fare di tutta un'erba, un fascio perché allora i 35 mandati via espulsi sabato in realtà insomma non erano persone legate diciamo al potere, quantomeno non erano vincolati a delle sedie, erano dei militanti che siano stati mandati podarsi, non lo so. Però come dice il Presidente Zaia che fino adesso è un'altra persona che ha mostro buon senso sia nell'amministrare sia nel giocare la partita più difficile in questo momento all'interno del suo partito, stiamo attenti a non buttare via tutto perché c'è il rischio che poi alla fine molti militanti se ne vadano e molti militanti perdano la fiducia in chi vuole fare veramente pulizia all'interno. Quindi un altro bel voto anche a Zaia allora? Dico che positivo anche Zaia perché Zaia poteva quantomeno quel seguito che ha anche alzare un po' la voce nei confronti di Tosi, nei confronti di Maroni, però capisce bene anche lui che per il bene del partito che lo ha portato ad essere Presidente della Regione non bisogna fare le guerre, bisogna piuttosto cercare di essere accondiscendenti con certe posizioni e la mediazione prima di tutto. Quindi un voto alla mediazione insomma, però insomma un po' contraddittorio, un bel voto a chi rompe e un bel voto anche a chi media. Attenzione, non è che chi rompe, cioè il buon Maroni e Tosi non è che sta rompendo, stanno cercando di risistemare una situazione per fare chiarezza su dei comportamenti che in realtà non sono edificanti. Cioè voglio dire, pensiamo a quelli, hanno fatto, una parte della Lega ha fatto gli affari con personaggi legati all'andrangheta. Allora io voglio dire, quando se per anni abbiamo sentito il refrain che è la Lega, duri e puri, lontani da Roma, ladrona, lontani dalle mafie, lontani in questo e poi si scopre che un tizio molto legato all'andrangheta faceva affari con questi signori per portare dei soldi in Africa. Beh, insomma, penso che Maroni abbia da che lavorare là dentro. C'è per loro il rischio di buttare via il bambino con l'acqua. Sì, appunto, va un voto positivo a Zaia che cerca che non succeda questo, soprattutto in Veneto, dove forse c'è stato meno, diciamo, connivenza con questi sistemi che si sono visti a Roma o a Milano. Senti, cambiamo argomento, siamo reduci da un fine settimana abbastanza di fuoco a Venezia, è stato chiuso il canale grande, quindi giornata ecologica sia a Venezia sia in terraferma, però le grandi navi hanno continuato a scorazzare tranquillamente per il canale della Giudecca. Allora, dico questo, non bisogna essere ambientalisti un giorno, due, tre all'anno, bisogna avere un comportamento corretto rispetto a questo importantissimo argomento, importantissima questione, tutti i santi giorni dell'anno. Allora, il giorno, la vecchia domenica ecologica, lo stop alle navi, all'imbarcazione, al transito acqua, al transito delle vetture, così, servono solo per metterci a posto con la coscienza o rispettare determinate imposizioni dell'Europa. Io dico questo, da un punto di vista dei risultati ottenuti, che senso ha fermare il barchino o la barca del veneziano che ieri per la prima volta, dopo mesi e mesi di pioggia, voleva magari fare una gita e far transitare quei grattacieli a motore e che inquinano in una maniera spaventosa, nessuno, perché poi i risultati, da un punto di vista dell'ambiente, non si sono ottenuti. Allora io preferisco che ci sia una politica quotidiana, di tutti i santi giorni, far rispettare determinati livelli di inquinamento, di parametri di inquinamento, perché far la domenica ecologica così proprio non ha nessun senso, se non far arrabbiare il veneziano di turno che magari dopo mesi che non respirava un attimo di aria, voleva prendere la barca e uscire ad andare in laguna. Quindi che voto diamo agli organizzatori della giornata ecologica? Ma non è agli organizzatori, perché io capisco questi assessori, questi amministratori locali, sono costretti, sono costretti da una normativa europea che da questo punto di vista è abbastanza assurda, no? Beh, nelle altre città non si sono fatte le giornate ecologiche. Ma alla fine devono essere fatte perché è un tot di numero, non devi sforare un determinato numero di giornate di polveri sottili, alla fine la sommatoria viene sempre fatta. Allora io dico, questo sistema, io boccio questo sistema di affrontare la questione, non tanto l'amministratore che è costretto, perché ormai, lo sappiamo benissimo, molte delle imposizioni che arrivano da Roma o dall'Europa costringono gli amministratori a dover applicare delle politiche che sanno benissimo anche loro che sono fuori di ogni garanzia. Diamo un bel quattro. Diamo un quattro a questo sistema di affrontare la questione ambiente. Senti, legato alla questione ambiente c'è anche la sicurezza stradale, no? Quindi sono stati giorni particolari questi anche su questo fronte. Ecco, ci riferiamo all'iniziativa della Polizia Stradale che da 13 anni a questa parte è capofila in Europa nella promozione della sicurezza stradale, iniziativa inserita nel progetto Icaro con un finanziato dall'Europa, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori, cioè a quella fascia di ragazzi che a breve arriveranno ad avere la patente. Allora, non è mai, in tutti questi anni che faccio il mestiere di, come dicono in redazione di raccogli morti, ho visto di tutto e di più ragazzi in sette in un'auto, ragazzi che erano più che ubriachi, ragazzi che erano fatti di qualsiasi sostanza possibile. Io dico sempre, non è mai sufficiente quello che gli enti locali o le forze dell'ordine fanno per promuovere un'educazione stradale, che non è, diciamo, soltanto il rispetto non metto in diveto di sosta, ma proprio il concetto di come uno deve sentirsi quando sale in un'auto. Molti ragazzi non ci pensano, però hanno degli strumenti di morte, adesso io uso questo termine, ma lo sono, le auto lo sono, se non lo sono per loro sono per gli altri, quindi un bel lotto alla polizia stradale che insiste su questo e anche alle scuole che sono sensibili a informare i ragazzi sulla sicurezza, dico che non è mai sufficiente quello che viene fatto, perché comunque le stragi ci sono, i morti ogni anno ci sono e soprattutto nei ragazzi compresi tra i 18 e i 30 anni, la morte per l'incidente stradale è la prima causa. Ecco, poi va aggiunto anche che si fa troppo poco per parlare della droga anche, no? Perché negli anni 70, quando la droga aveva cominciato a diffondersi, nelle scuole si parlava spesso di droga, adesso se ne parla poco, c'è poco interesse, poco movimento. Io sarei più sul discorso di parlare di devianze, perché parlare soltanto della droga in una regione come il Veneto è riduttivo. Perché dico questo? Perché io credo che una devianza che accomuna tantissimi ragazzi fin dai 12, 13, 14, 15 anni è l'alcol. Basta, faccio un discorso impopolare, passiamo alla sera, all'ora dello spritz e andiamo davanti ai bar della nostra città, ma può essere di Padova, può essere di Treviso come di Verona. Non facciamo distinzioni. Bene, vedremo lì davanti come inizia il ragazzo a rovinarsi, perché non è possibile, e lo sappiamo, che ragazzini di 14 anni possano bere lo spritz. È illegale, nessuno se ne accorge, diciamo, facciamolo così, però è anche una devianza che cresce qui dentro, perché diventa normale poi lo sballo alla sera. E poi quando tu sali macchina, lo sballo può essere devastante. Sì, però va aggiunto che ci sono dei ragazzini che non sono bene al corrente degli effetti negativi che anche per esempio le cosiddette droghe leggere fanno sul cervello. Se si parla con loro si dice non fa nulla perché si fuma. Quindi voglio dire, c'è una conoscenza molto resicata di questo fenomeno. Ma io dico proprio delle devianze, dei costumi. Parliamo in senso generale, perché limitarci alle droghe è un errore, come limitarci all'alcol. Sono sempre errori. Ma io dico, parlo dell'alcol perché per un fatto nostro di cultura è più tollerato che la droga, purtroppo. Perché se tuo padre ti vede a 14-15 anni bere un bicchiero di vino, sorride diciamo, dice vabbè, l'abbiamo fatto tutti. Se tuo padre ti vede a fumare, forse si irrita, si incazza, ti prende e fa più effetto perché non appartiene alla nostra cultura. Di sicuro entrambe le cose portano ad avere dei comportamenti non corretti. Non dico la cosa occasionale, però dopo, quando si continua e si fa un'abitudine, allora lì c'è da preoccuparsi. Senti, oggi c'è stato il cambio al vertice della Guardia di Finanza interregionale, è arrivato un nuovo comandante, si chiama Zanini e si è parlato di infiltrazioni mafiose nel Veneto. Ecco, si è parlato, diciamo, di quella mafia che non si vede, nel senso che noi pensiamo che la mafia, il fenomeno mafioso, ma pensiamo oramai, quasi tutti sono d'accordo a dire che non c'è soltanto nelle regioni dove, per Antonio Maga, siamo detto che sono a carattere mafioso. Diciamo che dove le regioni stanno bene, dove ci sono capitali, dove ci sono aziende. Dove si può investire, arriva la mafia, i cosiddetti colletti bianchi. Allora, è importante anche quell'iniziativa fatta con le scuole di Mestre non più tardi di un dieci giorni fa in cui ai ragazzi è stato portato l'esempio di persone che in Sicilia, in Calabria, in Campania hanno combattuto e combattono la mafia. Perché? Perché è con l'esempio loro che si sensibilizzano queste nuove generazioni nel stare attenti. Perché tante volte noi abbiamo il vizio di non pensare a dove arrivano determinati flussi di soldi. I soldi, come si dice, non hanno odore, non hanno colore. Però, chiaramente, io dico questo, questi soldi che arrivano qui in grosse quantità, liquidità, che sono anche alla base dell'usura, perché poi alla fine in un momento di crisi, come hanno sottolineato più volte sia la Guardia di Finanza che la Magistratura, in un momento di crisi, le mafie hanno liquidità e arrivano dove c'è necessità di questo denaro, no? Prestando soldi a chi è magari sull'orlo del fallimento, perché magari non trova i soldi dalle banche, perché le finanziarie non gli danno i soldi e così via. E cosa succede? Che queste loro aziende lentamente, senza che se ne accorgano, passano di mano. In quel momento la mafia è dentro di noi, è da noi. Magari non ce ne accorgiamo subito e ce ne accorgiamo quando un imprenditore eventualmente si suicida, no? Abbiamo questa serie di suicidi che stanno caratterizzando il periodo. Bene, alcuni di questi sono dovuti anche all'usura, a gente che non riusciva più a pagare chi aveva prestato loro i soldi. Quindi a chi diamo il voto al sistema? Allora, io dico questo, un voto positivo va sempre dato a chi fa queste, organizza queste iniziative, queste campagne, perché è nella sensibilizzazione dei più giovani, delle future generazioni che si può cambiare qualcosa. Ecco, senti. Il voto negativo io lo do sempre a chi? Capendo la situazione di determinati imprenditori e dico che questi imprenditori erano quelli presi ad esempio 10, 15, 20 anni fa quando noi eravamo il nord-est, la locomotiva d'Italia, la California d'Italia. Bene, io dico a quei direttori di banca, a quelle banche, a quelle finanziarie, quelle persone sono le stesse, sono gli stessi imprenditori che allora vi hanno fatto anche a voi diventare ricchi. Adesso sono in crisi, perché adesso non siete voi ad aiutare loro e impedire che finiscano nelle mani dei cravatari? Eh, qua, un voto negativo forse ci starebbe. Senti, parliamo dell'ultima cosa, è venuto fuori questo scandalo dei veleni sulla terza corsia, però Autovie Venete dice noi abbiamo analizzato tutti i materiali che sono stati serviti per coprire il manto stradale della della terza corsia e dicono fino ad ora nessuna analisi ha rilevato anomalie. L'azienda stessa, la mestrenaro di Zerobranco, si ritiene perseguitata, dice non è vero, siamo sereni, noi siamo sicuri che non troveranno nulla, però i capannoni sono stati sequestrati, 100 posti di lavoro sono fermi e la mestrenaro è sicura che fallirà per questo. Allora, io non conosco esattamente lo stato dell'arte delle indagini. Le indagini, stando alla procura di Venezia e ai carabini del Noe, dicono che sotto alla terza corsia e sotto a un parcheggio di tessera è finito del materiale inquinato con metalli pesanti e via dicendo, cioè cose con dei limiti, diciamo con dei valori al di sopra, quasi del doppio rispetto a quello. E questo è quanto hanno detto. Ecco, fa specie che sia, diciamo, l'autovie venete che Save, Ingineri, cioè chi ha costruito il parcheggio a tessera all'aeroporto dicono a noi non risulta. Ecco, questo fa molto specie perché allora io dico, uno, è mai stato possibile che chi ha costruito non sapesse che genere materiale finiva nella loro opera? È mai possibile che nessuno abbia controllato cosa la mestrenaro portava? Ecco, questo è il dubbio che rimane. Io spero che si chiarisca prima possibile questa vicenda perché appunto ci sono sempre 100 posti di lavoro a rischio. Dopo, come è moderno dire, abbiamo fiducia nella magistratura, farà chiarezza, però se deve far chiarezza lo faccia velocemente perché qualcuno potrebbe rimanere a casa dal lavoro. Quindi sospendiamo il giudizio allora. No, il giudizio qua è sospeso appunto perché ci sono due contraddizioni molto nette, no? Ma non, allora, se nel gioco delle parti è logico che la mestrenaro dica io sono tranquillo perché non ho fatto niente, perché fa parte, diciamo, anche io se ho rubato e mi dicono hai rubato, cerca di difendersi e dice io no, è a posto. Quello che fa specie, che fa pensare è che chi ha utilizzato questa cosa, cioè Autovie Venete e la SAV Inginery, cioè due enti, diciamo due enti che tra loro non hanno nulla a che fare, non dicono no, lì dentro è tutto in regola. Addirittura Autovie Venete dice che ci sono delle analisi che testimoniano come quel materiale sia pulito. Quindi insomma staremo a vedere. Quindi bisogna aspettare. Va bene, grazie Carlo anche per questa tua, per questa puntata di oggi. Ci rivedremo con le pagelle sempre con Renzo Mazzaro e fra 15 giorni tornerà Carlo. Grazie. E dopo l'esplosione della primavera in questo ultimo weekend vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Sole e caldo fino a venerdì con temperature sopra la media stagionale. Martedì 16 aprile parzialmente soleggiato con banchi di nebbia al mattino, valori in lieve calo, mare quasi calmo. Mercoledì 17 aprile, tempo soleggiato con foschie mattutine, minime stazionarie, massime in aumento, mare quasi calmo. Giovedì 18 aprile, cielo da sereno a poco nuvoloso con temperature in salita comprese fra i 12 e i 24 gradi. Venerdì 19 aprile, soleggiato fino a metà giornata, poi variabile, con possibili rovesci e temporali, valori termici invariati. La marea di martedì 16 aprile è normale, la massima all'1,30-50 centimetri, la minima alle 8,35-10 centimetri. Salutiamo gli amici che ogni giorno seguono il nostro Tg, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6 e 30, 7 e 30 e per l'informazione serale 19, 20 e 30 e 23. Arrivederci dalla redazione del Tg di Televenezia.